Un ottimo Hunder su Krisetic, Hunder col sinistro! Buca le mani di Squartiello! Dal verso la pallone là e poi la palla finisce dentro! Con il primo gol rimane a piatto gelente di Francesco Azzerci! Ancora su Santon, col tacco! Ancora Bastone col tacco! Gran numero di Correa! Correa! E' Dugu! Cosa fa' Dugu?